di assaggio. Che cosa fanno i comitati di assaggio? Sono otto persone, più il capo Panel, Panel è il nome tecnico che definisce questi comitati, che in pratica assaggiano l'olio, quindi devono valutare le caratteristiche organolettiche che sono sostanzialmente l'olfatto e il gusto, quindi entrambe questi sensi devono essere soddisfatti perché un solo esame chimico di un olio non dice se effettivamente un olio può essere extravergine o meno, alcuni difetti dell'olio non si individuano con l'esame, il solo esame chimico, l'esame chimico ci aiuta a sapere l'acidità, i perossidi dell'olio, ma l'esame organolettico, quindi l'assaggio effettivo, quindi l'uomo, il fattore umano entra prepotentemente in questo, però è un assaggio fatto in maniera molto, molto puntuale attraverso regole europee già dettate da diversi anni. Ogni assaggiatore ha una scheda e deve individuare eventuali difetti che possono essere il rancido, l'avvinato, il riscaldo, sono i vari difetti che l'olio può avere legati soprattutto alla macinazione, alla gramolatura e alla frangitura delle olive.